Caso risolto, denti fissi con sistema bocca bionica, paziente che soffriva di parodontite, incisivi assenti nella parte anteriore e molari completamente assenti. Questa era la situazione di partenza, apparentemente sembrava che ci fosse anche osso attorno a molte radici. La verità è che quando poi abbiamo eseguito l'RX si è visto che queste erano attaccate per un filo all'interno dell'osso. Abbiamo posizionato dei denti provvisori, eseguito la chirurgia, messo impianti nella parte anteriore e posteriore, dato il tempo all'osso di guarire. Una volta che abbiamo posizionato gli impianti, abbiamo posizionato poi al di sopra di questi le protesi provvisori avvitate. Alcuni impianti non li abbiamo caricati subito perché non avevano un'ottima stabilità. Abbiamo dato il tempo all'osso di guarire. Quello che vedi qua è l'attacca tridimensionale della situazione di partenza sul lato sinistro e la situazione come abbiamo concluso sul lato destro. In questo caso specifico abbiamo eseguito poi con il nostro sistema bocca bionica un design digitale al computer di dove avremmo dovuto rimettere i denti. Quindi l'abbiamo mostrato al paziente e il paziente ha accettato. A questo punto abbiamo creato una stampa in plastica di denti test. Queste sono delle prove che vengono poi buttate. Servono solo a verificare l'occlusione, capire dove mettere gli incisivi, i canini e i premolari. Dopodiché abbiamo creato le arcate definitive. In questo caso abbiamo optato per due linee superiori. Nella arcata inferiore abbiamo preferito utilizzare una barra lucida a contatto con la gengiva per avere una migliore autodetergibilità. Abbiamo simulato la texture di superficie dei denti, dei denti assolutamente indistinguibili da dei denti naturali, delle repliche di denti reali scansionati. Nota la lavorazione della gengiva come conferisce un aspetto assolutamente naturale, nessuno potrebbe dire che questi denti sono artificiali. Questa è la visione da vicino. Il paziente oggi ha una copia dei suoi denti in cloud, memorizzata. In caso di problemi noi possiamo richiamare questi denti e andarli a riprodurre in caso di necessità. Questi sono i vantaggi del lavorare con il digitale, invece che fare dei denti finti, metallo-ceramica, come si facevano anni fa, che hanno un aspetto poco naturale, soprattutto poi in caso di problemi bisogna tornare all'estero. Questo è il primo e dopo, spero ti sia piaciuto questo caso, dai uno sguardo a tutti gli altri.